Cambiamenti estetici solo di dettaglio per la Quattroporte Sport GTS a partire dal terminale di scarico posteriore di colorazione nera così come i panali anteriori ovviamente nella parte interna cerchioni da 20 pollici per dare più aggressività ma soprattutto nell'aspetto globale la vettura 15 mm più bassa per un assetto ribassato che insieme alle sospensioni che sono il 20% più rigide nelle molle dà molta più stabilità con meno trasferimento di carico longitudinale e trasversale questo da modo di poter sfruttare i 440 cavalli del motore con un'accelerazione da 0 a 100 a 5 secondi 1 un binomio perfetto per sportività e comfort per una Maserati Vera abitacolo della Quattroporte Sport GTS con dei richiami evidenti alle corse come il disegno a carbonio nella console centrale alti particolari come la pedaliera racing oppure la modifica alle palette dietro al volante che sono state allungate per poter migliorare i comandi e dare appunto al pilota l'opportunità di cambiare anche in situazioni critiche come in curva e poi come non ricordare il sound che si cambia tramite il bottone sport che agli scarichi ovviamente dà un rumore molto più vicino a quello che è il mondo delle corse è che vorrei Eppure